ciao a tutti ragazzi come va come sempre qui agonista benvenuti in un nuovo video di pokémon go e oggi come la titola andiamo a parlare del community day di mudkip tranquilla 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 lo so che da alcuni non gasa ma per altri questo qui sarà un community day svolta quindi andiamo a vedere tutte le informazioni che vi posso dare per far sì che lo facciate al meglio allora innanzitutto ricordatevi che è domenica 10 aprile quindi domani raga ci sarà questo evento per questo fatto a guida oggi così vi fate un recap di tutto quello che volete vi ricordo ragazzi che abbiamo un gruppo telegram dove vi aiutiamo con le lotte go facciamo ride insieme ovviamente potete flexare i vostri shiny e solitamente vado in live sul canale viola magari ci troveremo la sera per parlare appunto del community day perché io lavoro domenica quindi non riuscirò a giocarlo tanto solitamente mi piaceva giocare con voi ma attualmente è hardcore con il lavoro e vi ricordo che su instagram porto aggiornamenti più veloci che nei video tips sulle storie anche nei post quindi se vi va di lasciare un follo mi fate un enorme piacere da poco abbiamo anche un disco dove ci possiamo trovare per parlare per giocare insieme a pokémon unite se qualcuno di voi ci gioca o anche per tenersi compagnia mentre magari qualcuno lavora o fa cattura o fa lotte rega io ovviamente vi aspetto detto questo basta pubblicità raga andiamo a buttarci subito con tutte le informazioni importanti per questo community dei molti stanno parlando anche del pve ma so che a voi non interessa quindi andiamo a parlare solo di pvp di marchio tanto per il ride ragazzo a meno che non vogliate fare da soli ride se siete in 4 5 6 li buttate giù i leggendari se siete con noi nel gruppo telegram lo fate allora abbiamo detto 10 aprile questo qui non sarà un community day come abbiamo visto precedentemente come al solito con lo spawn dalle 11 alle 17 ma raga avremo lo spawn dalle 2 alle 5 del pomeriggio quindi attivi in quell'orario prendere tanti marchi perché lo shiny rate rimane invariato da uno shiny su 25 pokemon quindi avete possibilità di prenderlo un po vi ricordo la cosa più importante che fino alle 19 avete tempo per evolvere il vostro mad keep in swampert per apprendere la mossa speciale idrocanone che è diciamo quella che ci interessa di più appunto per questo community day abbiamo visto che questi commenti dei classic sono improntati ovviamente su pokemon che sono molto strong nel pvp il primo è stato su benosaur molto utilizzato in mega e in ultra e secondo è su questo qui mad keep o swampert molto meglio su mega ultra e master è un vero campione soprattutto la master classic quindi detto fino a che dovete evolverlo andiamo a vedere un attimo che statistiche servono per giocarlo al top in tutte le leghe per la lega mega ci servono 0 14 14 ragazzi molto utile come pokemon very strong lega ultra dove io consiglio di giocarlo dove fa veramente il suo a mio parere a mio avviso poi ditemi anche la vostra nei commenti servono 0 14 13 quindi ottimo player e ovviamente per la master ragazzi stati perfette 15 15 15 lui gira molto bene nella master classic però vedete voi insomma se volete giocare anche nella master open fate bobis vi ricordo che potete anche avere l'ombra al team rocket è veramente utile anche ombra hai detto tutto su swampert c'è anche un diciamo secondo protagonista di questo evento e chi sarà mai ovviamente la sua pre evoluzione march tom perché anche lui ragazzi solo in lega mega ovviamente può dire la sua e che statistiche mi servono per prenderlo mi servono uno 0 14 15 quindi se prendete un mad keep che non ha le statistiche buone per mega e ultra magari potrebbe averle buone per la mega essendo march tom quindi state molto attenti ai numeri in caso tornate dietro nel video e ricontrollate li andiamo a parlare dei bonus ragazzi di questo evento così che sappiate un po tutto e le cose molto utili soprattutto per chi è sotto al 40 quindi vediamo nuovamente l'interesse da parte di pokemon go per i player che vogliono approcciarsi al pvp ma che sono ancora indietro con i pe infatti abbiamo bonus triplicato di punti esperienza alla cattura quindi potete anche pensare di utilizzare un fortu nuovo per aumentare la vostra esperienza con i catch ovviamente servirebbe fare eccellente con i tiri quindi valutate la vostra abilità di tiratore di pokeball se volete attivare i fortu nuovi vi ricordo inoltre che avete i soliti cinque foto bomba al vostro poco come un compagno per far uscire marston ovviamente raga dopo le due usciranno solo per voi quindi se siete a cacciare con il vostro amico così fate una foto magari vi asce shiny vostro amico non può neanche prendono quel pokemon magari vi asce anche con buone stato molto meglio di sciarie secondo me e appunto vi prendete un pokemon da battaglia gratuito i bonus raga per quanto riguarda la roma e l'esca penso varanno per tre ore come al solito però vi ricordo che la roma l'hanno depotenziato a 3000 infatti se non camminate spone un pokemon ogni cinque minuti quindi raga armatevi di scarpe età ginnastica e andate a camminare a rotella e prendete tanti matt keep ok per quanto riguarda una caramella in più durante la cattura come al solito abbiamo delle mega evoluzioni da consigliarvi servono dei pokemon di tipo acqua mi viene in mente qualcuno ovviamente blast toys garridos e slow bro possono essere quelli che fanno nel caso nostro abbiamo detto un po come sono arrivati diciamo in mega quello che volete voi quello di cui avete più mega energie potete mega evolverlo io non sto qui a dirvi che cosa mega evolvere perché tanto ognuno ha le sue mega energie indietro nel negozio troveremo un pacco evento del community day inoltre che ci darà 15 ultra 15 bacana nas una mt fuori classe veloce e un biglietto rider da remoto già detto così sinceramente io non vi consiglierei di comprarlo in più vi dico anche che costa 850 manete quindi già qui bocciato ragazzi sinceramente fosse stato una mt attacco fuori classe caricato mi sarebbe interessato molto di più ma così ama sinceramente mi viene da dirvi lasciatelo al negozio lasciatelo a chi vuole spendere le monete voi state belli tranquilli catturate mad keep avete tutte le informazioni del caso che vi possono servire tutte le statistiche e raga io vi auguro buona fortuna ci vedremo in serata probabilmente per parlarne e vi saluto con questo video super veloce ciao a tutti io ciao